C'è un fischio in questa canzone, chi sta riuscendo a fare? Fabrizio, non facciamo un... Proviamo, proviamo. Se non trovo le parole, sudo, fregno e non traspiro. Esco a cercarmi un po', come un cane da tarturo, che ha perso il suo istinto. Entro nel panico, è la colpa di scrivere che mi fassiare male. Perché io senza scrivere, non ci sto. Faccio lunghe di pensiero, chiudo gli occhi di continuo, aspetto la respirazione, che non arriva mai. Mi giro qui il soletto, e poi cammino dentro, quando sembra tutto perso ed improvviso, ecco la qua. La parola aspettata, era nascosta fra le ciglia e il mio cuore. Finalmente mi rilasso, faccio pace con me stesso. E' il misterio poi, la distrazione di un secondo, uccide il mio aesco. E' di nuovo calco, è la colpa di scrivere che mi fassiare male. Perché io senza scrivere, non ci sto. Alzo gli occhi verso il cielo, divento uno sciamano, una danza della pioggia, le parole impoverò. Provo l'ultimo crottismo, provo l'ultimo mio santo, quando sembra tutto perso ed improvviso, ecco la qua. La parola aspettata, era nascosta fra le tira e ti ho trovata. Se non trovo le parole, io da muso mi cammina, per le strade che sono vuote e che mai vi è in pirona. Se non trovo le parole, sudo freddo e non traspiro, e mi manca un po' il respiro. Come se non cassi, come se non cassi, cazzo, come se non cassi, tu. Ando suonato per voi, Fabio Guagliatti, a piano. Alla disarmonica. Capanezza. Alla batteria, alla percussione, ai tamburi, il grandissimo Tarciso, vuote la mano. Una dea, una crema, con un quento, con un quento meditivo per la musica, le sue mani, le sue note, il suo strumento, che è uno dei più belli del mondo. Signore, Giovanna Famolare. Io vi saluto, Giorgio Di Razio, le grazie a un'azzo che è buona. Volevo fare un applauso anche a Fabio Marto Rana e il Fondico, che ci fa sempre, sentirebbe tutti i sensi, sempre. Grazie, Fabio. E le grazie a voi, vorrei che finiscono tutti col fischio. Ce la facciamo, ma che facciamo, e chiediamo anche tutti. E le grazie a voi, vorrei che finiscono tutti.